presto mamma mia sì ho vinto però non è giusto non fare così è solo un gioco Luigi non ha paura ah sì certo pifone Luigi va bene ok ok doki ti vuoi muovere? Mario let's go yahoo no 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 la genia hey hello hello wow no ciao 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 Grazie a tutti.